The Roost, The Seed qui su Radio Roma, Radio Roma Magazine, adesso con un ospite speciale. Un ospite speciale, è un grande piacere averla perché è un'artista versatile, è una cantautrice, una musicista e tra l'altro è stata eletta, ne parleremo recentemente proprio il 5 gennaio, presidente AI, Associazione Italiana Artisti Autori è un piacere avere con noi a Radio Roma Roberta Giallo. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, piacere mio. Ciao Roberta, un grande piacere. Allora, da dove cominciamo? Io direi prima da questa elezione perché è importante, tu sei una musicista, un'artista, una cantautrice, è una bella carica, una dose grande di responsabilità in un momento difficilissimo Roberta per lo spettacolo, per la musica in particolare, per i live, la musica dal vivo. Guarda, ciò che mi dà, come dire, il coraggio di intraprendere questo percorso, insomma, accogliendo questa carica è proprio il fatto che io sia stata chiamata all'unanimità, quindi sono investita dalla fiducia di tante persone che evidentemente credo di me in quello che ho fatto fino adesso, cioè interessandomi agli artisti, anche esponendomi spesso sul web che oggi è diventato, diciamo, un mezzo su cui far valere, insomma, le proprie idee o comunque avanzare delle richieste. Diciamo così, è un impegno di fatto politico senza essere partitico, ma credo che in questo momento storico in particolare siamo chiamati, noi artisti, anche a mediare con le istituzioni, perché è molto difficile, insomma, muoversi senza un sostegno da parte, appunto, delle istituzioni. Perciò cercherò di fare del mio meglio, sto già al lavoro, sto pensando a tante cose e soprattutto sono in ascolto di chi vuole, insomma, farmi presente delle necessità o altro. In ascolto, appunto, di tutte le esigenze e le necessità. Allora, partiamo anche dal tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo progetto, un vero e proprio progetto artistico, discografico, che è il tuo album Canzoni da Museo, da cui poi noi abbiamo estratto una bella canzone che si chiama, l'ascolteremo dopo, Il cielo contro cui Bologna. Come nasce questo progetto artistico, Roberta? Qual è stata proprio l'idea creativa che ha mosso la volontà di fare questo progetto, che poi è musica e poesia insieme? Allora, guarda, nasce davvero in un museo, nel senso che io sono stata chiamata in ottobre 2020 al Museo Maxi di Roma, della vostra bella Roma, ad esibirmi durante la mostra di Giovanni Gastel, notissimo fotografo e anche poeta, nipote di Lucchino Visconti. E in questa occasione io ero stata chiamata perché avevo partecipato con una mia piccola dissertazione al suo libro scritto insieme a Davide Rondoni, Dare del tuo alla bellezza. E quindi, poiché suona e canto, in realtà sono stata chiamata per esibirmi durante questa presentazione che avveniva appunto durante la mostra. E avendo sentito ascoltare Giovanni parlare proprio della sua poetica, del suo mondo parallelo a quello dell'esistenza, mi sono riconosciuta, capita a volte, no? Si ascolta parlare a una persona e si riconosce nella persona, soprattutto magari anche in un percorso artistico, anche se sempre diverso, però con degli aspetti magari simili. Quindi è scattato da parte mia questo innamoramento che è avvenuto anche in lui, un innamoramento ovviamente artistico, perché a lui piacque la mia musica, a me piacque insomma quello che diceva. E quindi ci siamo poi tenuti in contatto. Lui mi ha inviato dei libri di poesie e da lì io ho sentito proprio queste poesie, alcune di queste poesie con un canto, cioè ho sentito la musica nelle sue parole. Quindi ho registrato malamente col telefono dei provini, glieli ho inviati e lui voleva immediatamente pubblicarli su Facebook, insomma sui suoi canali social, era molto entusiasta, ho detto no Giovanni aspetta, fammi fare un lavoro, insomma di un certo tipo. Poi ho coinvolto anche Davide Rondoni, grande poeta, ha fondato qui a Bologna il centro di poesia contemporanea, amico di Giovanni con cui avevano scritto i libri insieme. E poi ho aggiunto anche dei versi del grande poeta Roversi, che scrisse anche per Lucio Dalla, Lucio Dalla che fu mio mentore. Quindi in questo album l'idea è stata, come dire, unire la musica alla poesia perché la poesia possa arrivare, potesse arrivare e possa arrivare oggi e anche nel futuro, anche a chi magari non si avvicinerebbe, no? Anche perché la musica è un veicolo molto universale. Unendo non soltanto la nicchia colta, ma anche essendo di grande fruibilità, insomma, per tutte le persone. Esatto. E magari anche far sì che il concerto relativo a questo album possa continuare il percorso nei musei. Infatti ho girato anche il videoclip del singolo estratto nel Museo della Musica di Bologna. Insomma, l'idea di unire un pochino i linguaggi delle arti perché siano magari, non voglio dire più efficaci, perché anche singolarmente ogni linguaggio è efficace, però che siano uniti. Ecco, avere un occhio sulle arti che possa comunare i vari stili e vari generi. E poi, questo lo dico, io sono una cantautrice, quindi tendenzialmente musico le mie parole o, come dire, do parole alla mia musica, ma avevo bisogno proprio di stare sugli altri. Ecco, e quindi gli altri mi hanno concesso l'opportunità di un viaggio altro, seppur molto vicino a quello che poi ho fatto, perché si leggono gli altri e a volte si ritrova se stessi, insomma, negli altri. È verissimo. Noi ascoltiamo dal tuo ultimo lavoro, appunto, da Canzoni da Museo, Il cielo contro cui Bologna. Lo ascoltiamo e poi ne parliamo con te. Roberta Giallo. Il cielo contro cui Bologna, appunto il tuo brano, molto molto bello, quindi complimenti da parte di tutti noi che l'abbiamo ascoltato molte volte. E ci veniva da farti una domanda. Stavamo parlando di questo rapporto tra le arti, la musica, le varie arti, in particolare, diciamo, tra poesia, scrittura e quindi musica, che è un rapporto molto antico, perché già i greci l'avevano capito molto bene, facevano, insomma, questi grandi spettacoli, euripi dei cori. Poi è arrivata comunque l'opera lirica, in un periodo più vicino a noi. E quindi volevamo chiedere che tipo di eredità ci lascia tutto questo passato, che poi, insomma, è sempre presente, perché stai facendo anche te la stessa cosa, dalla fine si tratta sempre di musica e di arte. Guarda, hai centrato un punto fondamentale di tutto questo lavoro. Esiste un video, adesso ancora non l'ho pubblicato, proprio di Giovanni Gastel, in cui parla delle intenzioni programmatiche di questo progetto e fa proprio riferimento ai tempi della tragedia, in cui, diciamo così, ai versi venivano accompagnati da un accompagnamento musicale. Quindi quello che dici è assolutamente in linea con l'idea di un recupero di qualcosa di antico, ma trasformato in un linguaggio moderno, così come sono gli arrangiamenti, per quanto io, come dire, non mi baso mai su una tendenza, su una mododierna. Tuttavia credo che proprio lo sforzo di non assomigliare a nulla se non a se stessi sia oggi il segno della contemporaneità, ecco, di quello che è contemporaneo, perché la contemporaneità si nutre del prima, dell'adesso, guardando al dopo, immaginandolo. Quindi sì, guarda, è centrato un punto. Io amo la cultura greca, amo la tragedia, amo la musica lirica, ho anche studiato, insomma, canto lirico, e quindi hai parlato anche di lascito, insomma, ecco, io spero nel mio piccolo, umilmente, di lasciare qualcosa di autentico su questa terra e quindi rivolgendo lo sguardo a chi mi sembra già grande e tentando anche delle vie condivise, di collaborazione, credo di fare il mio dovere come artista, insomma, che cerca di raccogliere la bellezza o ciò che ci parla, no, e di incorniciarlo nel modo più autentico possibile, seguendo l'istinto e anche però basandomi su quello che ho studiato, che parte poi dei miei studi e che diventa poi ciò che amo. Poi Roberta, giustamente appunto a radici profonde, come diceva anche la collega, le radici della cultura, la cultura era davvero messa al centro della comunità, della polis, e la parola cultura è oggi ricorrente, subito proprio dopo due anni di pandemia, dove di cultura si è parlato molto. Ma ritornando un attimo al brano che abbiamo ascoltato, Il cielo contro cui Bologna, Lucio Dalla è stato il tuo mentore. Che cosa rappresenta Bologna per te? Quali sapori, quali odori, quali emozioni? È un viaggio molto romantico questo brano, quasi un atto d'amore proprio. Sì, guarda, hai colto. Io amo Bologna, sono nata a Senigallia, nelle Marche, ma è Bologna la città che ho scelto per vivere, oppure mi ha scelto lei. È qui che ho mosso, diciamo così, i miei passi ufficiali come artista. Insomma, Lucio mi ha dato sicuramente l'opportunità di entrare nel mondo della musica con una sorta di benedizione, ma è prima ancora di Lucio Mauro Malavasi, che mi presentò Lucio Dalla, grande produttore musicista, con cui permane, diciamo, un'amicizia profonda. Quindi Bologna è il luogo delle amicizie, degli incontri artistici, ma è una città che amo anche architettonicamente. Insomma, questi portici che celano, però allo stesso tempo rivelano, no? E quindi questo misticismo di Bologna, questa sua apertura anche al mondo giovane, perché è una città comunque popolata da giovani universitari, fa sì che poi si possa sempre stare a contatto con la contemporaneità, ma anche col passato. Ecco, io adoro questa città perché è una città senza tempo e nel tempo. E poi non so, c'è anche un qualcosa che mi lega lei di razionale. Insomma, si arrivi in un posto e ci si sente a casa. E io ho scelto di rimanerci perché è una città che mi ha dato tanto e a cui voglio restituire tanto. Infatti Il cielo contro cui Bologna, questo brano con il testo di Davide Rondoni, vuole essere proprio un omaggio alla sua bellezza, anche alla sua bellezza tragica, perché poi Bologna appunto è anche una città misteriosa, appunto è anche in ombra con questi portici, non ha il cielo aperto magari di Roma o di altre città, è un cielo spesso celato. Però io l'amo ecco, perché proprio ecco leopardianamente direi là dove c'è un muro ci si può immaginare l'infinito e quindi forse i limiti anche che mi impone questa città poi mi sono di grande ispirazione. Comunque Bologna, ti amo! Bologna è davvero una bellissima città, hai ragione, è una città romantica. Che bello tornare sui classici Esmeralda, ritirare fuori dai nostri cassetti tante conoscenze. E riscoprire che non sono noiosi, anzi. Ringrazio voi perché mi avete posto delle domande straordinarie, quindi non immaginavo, insomma, è domenica, pensavo una cosa, invece grazie perché avete posto delle domande che mi hanno permesso di dire delle cose. Noi siamo a nostra volta con il nostro lavoro ispirato da artisti come te, come voi, di grande profondità. Non a caso ti ha scoperta Lucio Dalla, Roberta. È meraviglioso il tutto. Io spero che quando capiterai, lo speriamo, a Roma, tu ci venga a trovare qui. Come no, teniamoci in contatto. Adesso siamo su Skype, insomma, molto molto volentieri. Anzi, sono davvero felice di aver potuto conoscervi e grazie davvero per le domande, perché grazie alle domande si riesce a dire qualcosa, poi se no bisogna girare la domanda. Un'affermazione molto socratica e direi che possiamo concludere. Grazie a te. Ricordiamo allora canzoni da museo e complimenti, buon lavoro come presidente AIA. Ecco la copertina, la vediamo sul 115. Sì, hai fatto bene. Un momento promozionale, anche bello, anche un po' sfocato. Grazie di tutto, grazie a voi. Eh beh, ti hanno vista anche sul canale 672, salutiamo tutti gli amici dell'Emilia Romagna. Grazie Roberta Giallo, a presto, buona musica, buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao, grazie a voi. Grazie, grazie ancora.